Il rischio è che verranno spesi tantissimi soldi privati perché appunto le persone andranno a fare privatamente questi test senza che però ci sia una crescita di conoscenza del virus che in questa fase così iniziale, così percoce è invece fondamentale. Oggi niente introduzioni perché andiamo direttamente all'argomento di questo video, anzi è un argomento di cui abbiamo già parlato ormai più di un mese fa, in piena fase 1, si tratta dei test sierologici. Lo avevamo fatto insieme alla dottoressa Luisa Bracci-Laudiero, scienziata dell'Immunology Network del CNR che anche oggi è in collegamento con noi. Dottoressa, l'argomento è sempre quello dei test sierologici anche perché sono cambiate ma non poi tantissimo le cose rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti o sbaglio? Salve! No, purtroppo la situazione, la definirei, mi scusi il termine, è un po' caotica nel senso che c'è una grande confusione e non si riesce a far passare un concetto invece importantissimo, cioè che il test sierologico è, come tutti i manuali di medicina clinica che invito molti a rileggersi, indicano, è fondamentale insieme agli analisi molecolari nel fare diagnostica su malattie virali. Ora, il discorso, secondo me, il grosso problema è stata la contrapposizione tra vari tipi di test sierologici che ha creato grossi problemi e, diciamo così, molte perplessità. Purtroppo non c'è stato, almeno che io sappia, un coordinamento, un'organizzazione a livello di ministero, cosa che invece è avvenuta in altre nazioni. Quindi non si è studiato in maniera, diciamo così, si sono presi, ammettiamo, 50, adesso ce ne sono centinaia sul mercato, quindi si è preso un certo numero di test, si sono stati stessi sieri testati in modo diverso per capire quelli che erano più efficienti, che davano migliori garanzie. Collegandomi a quello che ha detto lei, andando a leggere il decreto del 25 aprile scorso, il commissario straordinario Arcuri fa riferimento a quella che è stata la gara per individuare il test sierologico da scegliere per fare quella che hanno definito una ricerca campione su circa 150.000 cittadini. Si parla di 72, leggo testualmente, 72 aziende, quindi immagino 72 tipi diversi di test sierologici, ne è stato individuato uno che viene ufficializzato appunto il 25 aprile, si tratta del test Abbott. Di cosa si tratta? La risposta di questo test sarà un presumo, una valutazione a livello del territorio per cercare di capire, le percentuali di italiani che hanno avuto la malattia, cioè quanto effettivamente il virus ha circolato nella popolazione ed è questo un uso dei test sierologici. Però quello che vorrei sottolineare non è l'unico e soprattutto a mio avviso non è più importante, cioè il test sierologico serve per aiutare a fare diagnosi insieme al tampone. L'idea che i test diagnostici siano perfetti deve essere allontanata perché anche il tampone di cui tanto si parla e si usa come golden standard per la diagnosi della malattia, in realtà dà una, diciamo, dal 30 al 35% di falsi negativi. Che in medicina è una percentuale alta. Eh sì, molto alta. I motivi sono svariati perché fare questo famoso tampone nasofaringe non è così facile, il virus RNA quindi si può degradare, anche per quanto riguarda la carica virale c'è un andamento nel tempo, quindi se lo faccio troppo presto, troppo tardi, può essere che io il virus non lo riesco a beccare nella mucosa in quell'asso di tempo. Quindi accanto al tampone serve un altro strumento. E questo strumento, come da manuale, questo me lo faccio ripetere perché veramente si è assistito in questo mese a delle dichiarazioni che direi veramente sorprendenti, no? Del fatto che il test sierologico, come se la grande incognita, il test sierologico... Guardi, dottoressa, se vuole le faccio riferimento ad una di queste dichiarazioni che volevo proprio chiederle. È del 15 maggio, quindi appunto pochi giorni fa, un'intervista dei colleghi della DN Cronos Salute al virologo dell'Università di Padova, Andrea Crisanti, che è intervistato in merito all'utilizzo dei test sierologici. Lei cito testualmente la sua risposta. Li ha definiti sostanzialmente uno spreco di finanze e non emergono dati che permettono di collocare i test sierologici in un percorso diagnostico. La sensazione è che noi siamo in un momento in cui abbiamo bisogno di tutti gli strumenti e mantenere questa sorta di remora ideologica a questo punto, preferendo o sbandierando la bandiera del tampone che comunque, come abbiamo detto, dà un 35% di falsi negativi. A fronte di un test sierologico o rapido o ELISA o CLIA ce ne sono vari tipi che comunque hanno una sensibilità intorno al 95-98%, quindi comunque stiamo parlando sono tutti strumenti fondamentali, cioè non ci possiamo permettere in questo momento di dire questo sì e questo no, servono tutti. Dottoressa, una cosa importante, mi perdoni, questi dati raccolti appunto dai vari test sierologici che appunto abbiamo detto sono diversi, diversi anche per regione, ci sono anche i test fatti dai centri privati in tutta Italia. Come si muoverà la raccolta di questi dati e soprattutto sarà più difficile raccoglierli visto che sono così divisi anche con gli studi privati? Mi piacerebbe tanto, cioè quello che noi avevamo chiesto come CNR, insomma la nostra proposta era di un coordinamento, siamo sempre tempo a farlo ma è una cosa che deve partire chiaramente dal Ministero, dall'Istituto Superiore di Sanità. I centri privati in questo momento sono stati presi d'assalto da tutte le persone che vogliono avere queste informazioni e sarebbe stato molto importante e utile sia come studio sul territorio, quindi per capire la diffusione del virus, che questi dati raccolti nei vari centri vengano in qualche maniera resi poi pubblici o comunque inviati agli organi, diciamo, all'Istituto Superiore di Sanità o al Ministero per poter fare una mappatura delle varie zone di come il virus si è mosso. Probabilmente è molto importante in questa fase che ci siano delle indicazioni un po' più precise a regioni, a centri diagnostici sul tipo, sulla qualità e anche poi, come diciamo prima, sulla raccolta dei dati. Cioè il rischio è che verranno spesi tantissimi soldi privati perché appunto le persone andranno a fare privatamente questi test senza che però ci sia una, diciamo così, crescita di conoscenza del virus che in questa fase così iniziale, così percoce è invece fondamentale. Quindi sarebbe veramente opportuno che i risultati che lentamente emergeranno da questi studi fatti così privatamente siano invece utilizzabili a livello, diciamo così, più centrale dal Ministero e dall'Istituto Superiore di Sanità. Grazie. Grazie.